Tra pace e servitù Cicerone è in Filippi che dice Il nome di pace è cosa dolce e la pace in sé è salutare ma differenza grande esiste fra pace e servitù Pace è libertà tranquilla Servitù è l'ultimo di tutti i mali da ricacciare non solo con la guerra ma col sacrificio stesso della vita Il cammino delle collettività da prima verso la schiavitù e poi verso la pace è faticoso Se così non fosse non avremmo necessità di un centinaio di vite umane per riuscire a compiere questo cammino Grazie a tutti